in un dibattito l'analisi della mozione è sicuramente il tassello più importante per almeno tre motivi aiuta i debaters a esplorare e a prendere in considerazione tutti gli aspetti del problema posti dalla mozione stessa l'analisi della mozione proprio per questo indirizza la ricerca sia delle argomentazioni che della documentazione permette ai debaters di costruire la propria strategia argomentativa di individuare gli argomenti e le posizioni da difendere di costruire il piano o modello di azione nel caso della mozione di policy e di anticipare le obiezioni che potrebbero essere sollevate dalla parte opposta esistono diversi metodi di analisi della mozione ne esamineremo due il metodo delle parole chiave e l'analisi delle 6 c